PEGI 18 Bisogna terminare tre round con quanto più denaro si riuscirà So che siete tutti degli avi di tagliagone Per cui chi giocherà a sporco si ritroverà con una bella taglia sulla testa Ma occhi aperti, un fottuto sbirro è riuscito a infiltrarsi fra di noi Il poliziotto non diventerà un traditore se uccide un criminale Ma può agire solo a crimine commesso Spero che sia tutto chiaro Non fidatevi di nessuno Abbassare la guardia significa rischiare la pelle E se trovate un traditore, ammazzate Vi frutterà parecchio